13 segreti per avere un super successo La differenza tra chi siete e chi volete essere e ciò che fate Le persone di grande successo capiscono che ci sono tratti, comportamenti e azioni che devono intraprendere per avere successo Il loro pensiero è, farò tutto il necessario per arrivare dove voglio Sanno che il successo non arriva da loro Devono andare a cercarselo da soli Ecco 13 modi in cui le persone di super successo riescono ad avere tanto successo 1. Le persone di grande successo sono sempre preparate Si preparano alle opportunità creando un piano strategico completo che incorpori la vostra visione, i vostri valori e i vostri obiettivi Questo significa una forte comprensione del nuovo ambiente di conoscenza Per moltiplicare le opzioni a vostra disposizione e sfruttarle al meglio, continuate a imparare e a migliorare il vostro lavoro ogni giorno 2. Le persone di grande successo dicono quello che pensano Siate sempre schietti e onesti Fate in modo di dire quello che vi passa per la testa senza paura di essere giudicati Dicendo la verità ed essendo onesti, potete sostenere le vostre parole con azioni che vi aiuteranno a perseguire il vostro successo Il semplice fatto di pensare con la propria testa può rendervi indimenticabili 3. Le persone di grande successo rispettano i loro valori Formulate il vostro codice di condotta basato sui vostri valori più importanti e assicuratevi che la vostra condotta sia fondata su di esso Se apprezzate l'eccellenza, fate in modo che tutto ciò che fate sia eccellente Se si tratta di lavoro di squadra, fate in modo che tutto si svolga insieme 4. Le persone di successo sfruttano la loro forza mentale Tutti affrontano sfide e ostacoli Qualunque siano i vostri, superateli con duro lavoro, resilienza e tenacia Circondatevi di persone valide che possano vedere le cose da una prospettiva diversa e fare luce sulle situazioni più oscure Infine, affrontate le vostre paure per diventare forti mentalmente Quando lo farete, comincerete ad attrarre più opportunità e sarete conosciuti come una persona in grado di sopportare le difficoltà 5. Le persone di grande successo incarnano la loro sicurezza di sé Siate fiduciosi in voi stessi senza richiedere continui input o feedback da parte degli altri Sviluppate invece la capacità di portare a termine il lavoro in modo indipendente, senza bisogno di essere assistiti, come percorso verso la fiducia nelle vostre capacità e competenze Guidate con fiducia, ma chiedete aiuto quando ne avete bisogno 6. Le persone di grande successo gestiscono lo stress Ci sarà sempre qualcosa che va storto, qualcosa che causa stress, qualcosa che non funziona, qualcosa che turba Imparare le tecniche di gestione dello stress che funzionano per voi non solo vi porterà al successo, ma vi aiuterà a diventare un esempio positivo per gli altri 7. Le persone di grande successo si spingono costantemente oltre il loro status quo La differenza tra chi ha un grande successo e chi è semplicemente in una posizione di autorità è facile da individuare La persona di grande successo continua a lavorare per migliorare le proprie capacità Dopo un certo successo, la tentazione di mantenere lo status quo è grande, ma l'impegno a continuare a crescere, imparare ed evolvere pagherà sempre 8. Le persone di grande successo mantengono la loro disciplina La chiave per una vita disciplinata è identificare le cose più importanti per voi e stabilire delle barriere per proteggerle Ci saranno sempre persone, opportunità, idee e distrazioni che vi arriveranno addosso tutte insieme Ma se siete disciplinati e determinati, potete essere aperti e mantenere il controllo Sapere a cosa dire e si e cosa rifiutare può fare la differenza tra il successo e il fallimento 9. Le persone di grande successo si mettono sempre alla prova È una cosa meravigliosa quando si riesce a trovare un nuovo modo di esprimere un concetto A vedere con occhi nuovi e a comunicare ciò che alla maggior parte delle persone sfugge Lavorate ogni giorno per trovare nuove prospettive su idee impegnative e nuovi modi di trasmetterle che portino gli altri a bordo 10. Le persone di grande successo sanno come accogliere il proprio disagio Imparate a sentirvi a vostro agio con il disagio Molte persone partono con grandi intenzioni ma non riescono ad andare avanti perché temono il rifiuto, il fallimento o l'ego ferito Trovate il modo di identificare ed elaborare le vostre paure, uscite dalla vostra zona di comfort e abbracciate le cose che vi mettono alla prova 11. Le persone di grande successo sono conduttori esemplari della loro vita La maggior parte delle persone di successo sono abili nel pianificare, coordinare e collaborare e ci sono arrivate costruendo abitudini di organizzazione, sistemazione, sistematizzazione e programmazione per far accadere le cose Potete iniziare oggi a fare lo stesso, a diventare un direttore d'orchestra, a mettere insieme elementi diversi in modo perfetto ed efficace Questo sarà il segno distintivo del vostro successo 12. Le persone di grande successo lavorano costantemente sul loro impatto L'influenza consiste nell'essere in grado di convincere, incoraggiare e incentivare le persone Non si tratta di elevare se stessi, ma di elevare gli altri Altre forme di potere sono limitate da ciò che si può comandare o controllare Ma lavorare sul proprio impatto permette alle idee di espandersi ben oltre i propri limiti personali 13. Le persone di grande successo si pongono sempre degli standard più elevati Più di ogni altra cosa, standard elevati sono un prerequisito per il successo Avrete sempre l'opportunità di tagliare gli angoli, di fare le cose a metà e di presentarvi a metà Ma se vi attenete a uno standard più elevato per voi stessi e per gli altri Sarete sorpresi di quanto loro, e voi, possano distinguersi e avere successo Comunque non c'è se muovere gli altri